È durato otto ore l'interrogatorio al quale è stato sottoposto ieri il presidente della regione Giovanni Totti davanti ai pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde nella caserma del reparto operativo navale della Guardia di Finanza di Genova, lo riferisce l'Ansa. Un interrogatorio fiume iniziato alle 11 di mattina è finito in serata oltre ad una memoria difensiva di 17 pagine per spiegare le linee politiche e morali che hanno sempre informato l'attività perseguita dalla giunta regionale dell'unica prospettiva di servire il bene e l'interesse comune dei cittadini Liguri e delle loro istituzioni. Ogni euro incassato, scrive Totti, è stato destinato alla politica con tutte le spese tracciabili in ogni momento. Un fuoco di fila di 180 domande preparate dalla procura di Genova a cui è stato sottoposto il presidente della regione Liguria e alle quali assicurano i legali ha risposto a tutte. Totti è agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso accusato di corruzione e falso. Nell'interimpianto accusatorio, scrive il presidente della regione, nella memoria difensiva, si analizza solo una limitatissima parte dei rapporti tra amministrazione, presidente e mondo del lavoro e delle imprese e di tale limitatissima parte si fa paradigma per tutto il resto. Ora Totti è intenzionato a chiedere al giudice per le indagini preliminari la revoca della misura cautelare. Uno snodo fondamentale di questa vicenda, soprattutto perché se il GIP dovesse accettare e lo rimettesse in libertà, si potrà confrontare con la sua maggioranza e decidere se dimettersi o meno dalla carica di presidente della regione. Per capire se Totti verrà rimesso in libertà servirà almeno ancora una settimana, secondo i tempi tecnici della giustizia.